Grazie a tutti. Vai via da l'Italia! Aprite! Aprite! Stiamo per salutare il comune di questo grande volo! E' un po' qua, d'avete, ma se ne va. Entrate, se ne va. Che è Massimo D'Alema? Sì. D'ai al pronto soccorso, dai! Eh? D'ai al pronto soccorso, loro sono entrati. Aspetta, ragazzi, ecco qua. Tutti pronti a soccorso? Sì, è arrivato Massimo D'Alema, contestato. E' stato contestato Massimo D'Alema, esatto. Ma lo faranno entrare? Certo, deve morire lui, mica... A tutti per saluto! Lichiciusino.it Salomo Pino! 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 Pino